Ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao, benvenuti in questo nuovo video Come state? Spero bene, spero che abbiate passato uno splendido fine settimana Vi chiedo in anticipo, scusa se sentirete televisione, voci eccetera eccetera Ma sto registrando questo video dopo cena e c'è ancora parecchio movimento in casa Perciò abbiate pazienza, spero che riuscirete a concentrarvi sulla mia voce Ma ci tenevo veramente tanto a fare questo video e a farlo adesso Perciò non avevo nessuna voglia di aspettare la notte fonda o un momento di tranquillità Perché avrei dovuto rimandare di parecchio Quindi sto facendo questo video dopo che vi ho anticipato qualcosa su Instagram in questi ultimi giorni Volevo parlarvi, e qualcuno di voi già me l'ha chiesto Della mia esperienza con il microplading alle sopracciglia Ora non fate caso al fatto che siano di un colore piuttosto strano Molto molto accentuato e in certi punti più scuro Ma è appena fatto, cioè è fresco praticamente di due giorni Per cui non è ancora lo stato definitivo nelle sopracciglia Perché ora c'è tutta la cicatrizzazione C'è tutto un processo più o meno lunghetto O comunque non troppo breve di cicatrizzazione eccetera Se mi seguite da un bel po' di tempo Ma anche sul canale di vlog soprattutto Sapete che io sono un po' fissata con le sopracciglia Anche se in realtà negli anni, dall'adolescenza fino ad ora Le ho trattate anche piuttosto male Perché sono affetta da spinzettamento compulsivo E quindi le ho fatte ricrescere tante volte Per dar loro una bellissima forma Ma puntualmente poi le ho di nuovo rovinate Con le pinzette assottigliate Rese storte, diverse E tutte le cose che le persone con lo spinzettamento compulsivo Come me conoscono bene Già da un po' di anni Tengo d'occhio queste tecniche Che di simil tatuaggio Perché il microblading non è il tatuaggio Però insomma queste tecniche Per avere il, come si chiama Insomma trucco semipermanente Qualcosa del genere Quindi simil tatuaggio, tatuaggio, microblading eccetera eccetera Perché sono delle tecniche Comunque dei trattamenti Che permettono di avere Le sopracciglia simmetriche Come non si hanno in natura E consentono di avere una forma Non la propria forma preferita Perché sarebbe una forzatura nel viso Ma comunque una bella forma giusta Per il proprio viso Il trattamento di microblading Costa parecchio Perché il prezzo si aggira Ho visto un po' su internet Dai 250 ai 450 Parra 500 euro Quindi costa tanto Ed è per questo motivo Che io non l'ho mai fatto Nonostante lo desiderassi tantissimo Però in pratica Che cosa è successo? Casualmente su Facebook Nella home page Mi è capitato Un post Sponsorizzato Di una pagina che seguo La pagina di un'accademia Che sta Insomma qui nella mia zona Un post dove c'era scritto In sostanza Che cercavano Modelle Per un corso Che si sarebbe tenuto Da tale giorno A tale giorno E c'era scritto Chi è interessata Mandi A tale email Qualche foto Una foto Con le sopracciglia Struccate Quindi io Ho detto Ma Proviamo Ma chissà quante persone Mandano La foto Per avere Un trattamento Gratuito Di questo livello E quindi Ho detto Vabbè Io mando La foto Tanto per Giocare Per tentarci Poi però Mi è arrivata la risposta Quasi immediata Mi hanno scritto Che avevano accettato La mia candidatura E che mi sarei dovuta Recare In accademia Tale giorno A tale ora Venerdì E quindi Insomma Così ho fatto E Ho avuto Gratuitamente Quindi Un'occasione Fantastica Si può dire Un trattamento Del genere L'unica cosa Che devo pagare È il ritocco Tra circa 45 giorni Ma Si parla di 50 euro E non di 350 400 450 Quindi Va bene E niente Quindi Sono andata lì E mi sono Letteralmente Affidata Alle mani Di una studentessa Che appunto Stava frequentando Il corso E quindi Di un'operatrice Ancora Inesperta Si può dire Di microblading Ma Attentamente Sorvegliata Dalla Dalla master Dall'insegnante Perciò insomma È andato tutto bene E sono contentissima Del risultato Questi giorni Mi fermo Molto di più Allo specchio Perché Mi devo ammirare Cioè Non devo ammirare Devo ammirare Le sopracciglia Perché Sono belle Arquate Sono le sopracciglia Che sogno Da una vita Ora Risultano Un po' Più grosse Perché I peletti Disegnati Insomma Si sono aggiunti Ai miei Però Quando andrò Tra circa 40 giorni Insomma A fare ritocco Saranno quelle Poi le sopracciglia Diciamo Definitive Perché In certi punti Mi stavano Anche ricrescendo Già Quindi Tutto si deve Come dire Assestare Allora Una cosa Che mi avete chiesto In tantissime Su Instagram Male Dolore Allora Considerate Che io non ho Neanche un tatuaggio Proprio Nemmeno uno Quindi non ho mai Provato una cosa Simile Il microblading È una tecnica Con cui Vengono disegnate Le sopracciglia Pelo Per pelo Con uno strumento Tipo a penna Se cercate su google Trovate l'immagine Tipo a penna Con una punta Fatta Di metallo Chiaramente È una Sorta di Lamettina Piccola Piccola Con dei Micro Aghetti Quindi Vengono fatte In sostanza Per disegnare I peli Delle sopracciglia Dei Micro Taglietti Graffietti Diciamo così Perché Chiaramente Il pigmento Deve andare Sotto pelle La differenza Con il tatuaggio Vero e proprio Quindi Con il Non so il nome Perché non sono un'esperta Con il macchinario Che si utilizza Per fare Il tatuaggio E che Prima di tutto Quello che si usa Per il micro Plading È uno strumento Completamente manuale Cioè Non è una cosa Che si accende E poi La differenza Sta anche nel fatto Che il pigmento Con il tatuaggio Va in profondità Rispetto Al pigmento Che si usa Per i micro Plading Che va Praticamente Appena sotto Pelle Ora vi faccio Vedere da vicino Ma Considerate Che Si stanno formando Le crostine Che cadranno Tra un po' di giorni Sto mettendo Il bepanthenol Quindi La pomatina Lenitiva E Per esempio Questi qui Sono disegnati Perché mi mancavano Da questa parte Lo stesso Questi Lo stesso Le codine Che non mi arrivavano Fin qua Ma arrivavano Fin qua E poi Mi hanno disegnato I pelletti Anche in mezzo Alle mie sopracciglia In sostanza In mezzo Ai miei veri pelletti Anche qua su Perché Me le hanno fatte Leggermente Più arcuate Di come ce le avrei io Naturalmente E Comunque Niente Sono molto contenta È un'esperienza Nuova Completamente Perché come vi dicevo Non ho mai avuto un tatuaggio Sì Vi volevo dire però Del dolore E mi sono persa In chiacchiere Come sempre Sono dei graffietti Viene comunque Preventivamente Applicata Una sorta Di cremina Un po' Mattina Anestetizzante Per Per sentire Menù fastidio E Ho sofferto Un po' Di più A sopracciglio Sinistro Perché Più sensibile Ma Questo lo so Perché anche Dall'estetista Quando facevo L'aceretto Comunque Le Sopracciglia Con le pinzette Mi faceva Molto più male Mi lacrimava Sempre l'occhio Ho sofferto Niente Qui Al destro Sono dei micro tagliettini Dei graffiettini Ma La lamettina È talmente sottile Che È tutto sommato Un fastidio Molto 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 Sopportabile Quindi Se vi devo Proprio parlare Di dolore No Anche perché Poi Il disegno Del peletto Cioè il trattino È molto breve Quindi si tratta Proprio Di Attimi Come se facessi Proprio Così Quindi È molto veloce La cosa Tanto da non rendersi Troppo conto Il trattamento Tutto sommato Cioè Da quando inizia A fare i disegni È abbastanza veloce La parte lunga È all'inizio Cioè Quando l'operatrice Prende Tutte le misure Per la simmetria Quindi Controlla il centro Del Del viso Del volto Sì insomma Del viso Poi prende le misure Con gli angoli Qui E poi Con la parte Che deve stare più alta Con la codina Insomma C'è tutto un procedimento Molto lungo Che in questo caso Trattandosi di un corso Tipi Group Leading Era ancora più lungo Perché l'insegnante Spiegava Anche Alle operatrici Che stavano imparando Eccetera eccetera Quindi Chiaramente Se si va da un esperto A fare il trattamento Sicuramente la cosa È molto più veloce Devo proprio dire Che Ho avuto Un'enorme Fortuna Per non dire altro A trovare Quest'occasione Cioè Io seguo Quella pagina Facebook Da un sacco Di tempo Ed erano un po' Di giorni Che pensavo Ma che bello Sarebbe Ma che palle Devo far ricrescere Le sopracciglia Maledette Pinzette Eccetera eccetera Poi Una sera Proprio così Per caso Su Facebook Scorrevo Con il mouse Sulla home Notizia sponsorizzata Cercasi Cercasi Modelle Per il corso Oddio Qualcuno Sicuramente Si lascia Spaventare Dal fatto Del corso Perché Qualche volta Questi centri Specializzati Cercano Modelle Per Fare dei corsi Avanzati A persone Che operano C'è in questo settore E lì è diverso Quindi uno si lancia Però molte persone Rimangono spaventate Dal fatto che sia un corso Quindi Siccome ce l'ha scritto Anche bello in grande Il trattamento Verrà eseguito Da studentesse Del corso Attentamente Sorvegliate Dalla master Da quello Però uno dice Non mi faccio fare Una cosa del genere Da una che sta imparando Io invece Mi sono trovata Benissimo Il lavoro Per me È eccezionale Ma anche perché Essendoci Solamente Tre ragazze A imparare Cioè L'insegnante Era proprio con noi Anzi Qualche Qualche tratto L'ha fatto lei Per far vedere Alla sua studentessa Quindi È stato tutto Molto 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 Professionale È perfettamente Eseguito Quindi Sono contenta Di essermi buttata In questa esperienza Anche se non nego Di aver avuto Un po' Paura Perché Ripeto Non avendo mai fatto Un tatuaggio Ho detto Oddio Cosa mi devo aspettare Sì è una cosa Diversa Dal tatuaggio Il tatuaggio Sicuramente Fa più male Però Avevo paura Non so Delle sensazioni Che avrei provato Eccetera Però ho avuto Un sacco di paura Per niente Perché alla fine Anzi Ho passato Un bellissimo pomeriggio A farmi Colare Si può dire così Quando si fanno Queste cose Ora niente Farò il ritocco Tra 40 giorni Circa 45 Per sistemare Poi Anche in base Alla crescita Delle mie sopracciglia Eventuali Peletti Poi finalmente Spariranno Le grosse Non si vedono Tantissimo Però Arriveranno In questi giorni Devo tenere Sempre la parte Pella idratata Chiaramente Quando mi trucco Devo Truccarmi ovunque Tranne Sopra Le sopracciglia Mentre io Il fondotinta Lo spalmo Proprio ovunque Per un po' di tempo Invece Devo Rinunciare A questa cosa Anzi Dovrei evitare Di farlo Anche dopo Perché Insomma La durata Del microblading Dipende anche Da come si trattano Poi Le sopracciglia Quindi Bisogna evitare Di strofinare Perché comunque Una cosa Appena sottocutanea Non è tanto In profondità La durata È di circa 2-3 anni Così mi pare Di aver capito Si deve fare Comunque Un ritocco Periodico Ogni 2-3 anni Penso A questo punto Che chiaramente Non costa Come Il trattamento Completo Però Tutto sommato Penso sia Una cosa Fattibile Poi dipende In realtà Perché dove Sono stati Disegnati I peletti Ricresce Comunque Il mio Pelo Perciò Questa qui Potrebbe essere Anche L'occasione Di avere Giusto Una traccia Per far Ricrescere Bene Le mie sopracciglia Chissà Ci penserò Tra 2-3 anni Insomma Non mi pongo Il problema Adesso Se avete Fatto Questo trattamento O se Avete Fatto Per esempio Il tatuaggio Vero e proprio Le sopracciglia Il trucco Semi permanente Eccetera Eccetera Fatemi sapere Nei commenti Sono molto curiosa Di conoscere La vostra esperienza In merito Ci possiamo Confrontare Perché no Intanto Spero Che questo Video Con Microfonino Zoom Vi sia piaciuto Io vi mando Un bacio Grandissimo Spero Di aver accontentato La curiosità Di chi mi ha chiesto Questo video E ovviamente Come sempre Di avervi rilassato E tenuto Un po' di compagnia A presto Clicchini